Ciao a tutte! Allora, questo video me l'avete richiesto in tantissime e da tanto tempo, quindi eccomi qui a farvi il Draw My Life. Io non ho programmi faighi e quindi vi beccate il video insomma, scarso, disegnato a matita, con la matita di Locchiti. Comunque, qui vi sto disegnando la mia famiglia. Questa è mia mamma, si chiama Anna, c'è il mio papà, si chiama Pasquale, papà è più alto di mamma, parecchio più alto di mamma, e poi c'è il mio fratello e quando io sono nata lui aveva 4 anni, quindi ci portiamo 4 anni in differenza, lui si chiama Daniele e questo è il quadruccio della mia famigliola. Io sono nata il 22 giugno del 1987. Poi, la mia vita da bambina, tutti mi raccontano che avevo una vita abbastanza stramba, nel senso che di giorno dormivo beatamente nella mia culletta, questa sono io piccolina che dormo, e di notte invece non facevo dormire nessuno perché stavo sveglia e piangevo, anche perché avevo parecchi problemi di salute, tanti problemi di salute, quindi quando stavo sveglia insomma, tribolavo e facevo tribolare anche gli altri. Poi, questa sono io all'asilo, io arrivo all'asilo l'ultimo anno, soltanto l'ultimo anno, quindi tutti i bambini già avevano sette amicizie, io già di mio facevo fatica a stringere nuove amicizie, insomma a prendere confidenza, e quindi quando mancavano quelle 2-3 amichette mi ritrovavo praticamente isolata da sola, non ho un bellissimo ricordo, ecco, e quindi c'erano ottenuti i bambini felici che giocavano, io non sapevo che fare, ecco, questo è il quadro del mio asilo, non è un bel quadro. Poi, questa invece sono io il primo giorno di elementari, quindi prima elementare, primo giorno, secondo giorno in realtà, perché il primo giorno è capitato proprio che io dovevo andarmi a togliere i punti di mattina, e quindi ho saltato il primo giorno di elementari, e quindi arrivo il secondo giorno e la storia si ripete, ovvero già i banchi erano formati e io mi ritrovavo di nuovo da sola, e quindi ero arrabbiatissima, tristissima, e già odiavo la scuola. Poi, qui arriviamo alle medie, vi sto disegnando tutte le mie passioni del tempo, quelle sono le nunchaku, questo è il bastone, perché ho praticato quasi 4 anni di kung fu, queste sono le fascette, perché a kung fu non utilizzavamo i guantoni, ma le fascette per essere più sciolti, più liberi, poi amavo i manga, quindi adoravo le arti marziali, amavo i manga, e qui vi sto cercando di disegnare, una volta ero più brava a disegnarli, vi sto cercando di disegnare, diciamo, un manga rappresentativo, ovvero Goku, anche se è venuto uno sgorbio, e quindi ridevo troppo mentre lo stavo disegnando, perché era orribile questo Goku, o il seno, comunque, e quindi capite bene che ero un po' maschiaccio, tanti avevo i capelli corti a spazzola, e avevo formato un trio di amiche, anche loro si erano fatti capelli a spazzola, quella è Elisa, quella più piccina, e questa altissima invece è Florenza, e ci divertivamo tantissimo, questo è un pollice verso, un pollice che dice mi piace, mi divertivo tanto con loro. Poi, come passavo i miei pomeriggi, quindi quando ero, diciamo, alle medie, in questa fase adolescenziale, quella è la mappa della mia città, diciamo che ogni pomeriggio, o quasi, giravamo tutta la città, io e queste amiche, e cosa facevamo? Ci allenavamo per palla a volo, nel cortile di una di queste mie amiche, e quella dovrebbe essere una palla da palla a volo, poi andavamo nel giro, insomma, che facevamo, andavamo dal Lidl e prendevamo la confezione di 6 più 1, quindi 7 sneakers, e la frigo e cola, che era la cola economica del Lidl, poi, cosa c'era? Ah, poi andavamo dal vecchietto di fiducia a prendere la pizza, quel vecchietto faceva una pizza spettacolare, non c'è più quel forno, purtroppo, e costava 2000 lire, 2000 lire, sante, le lire, io adoravo le lire, e veniva un bel pezzo di pizza con 2000 lire, comunque poi prendevamo il gelato, e questo sempre, ogni pomeriggio, e poi le patatine fritte, si, mangiavamo parecchio, ah, poi un'altra cosa molto importante della mia adolescenza sono stati gli uccellini, i diamantini si chiamavano, questa è perla, era domesticata ed era fantastica, poi vabbè, se ne sono susseguiti tantissimi, questo è ringhio, vi sto mostrando quelli più, a cui tenevo di più ringhio, anche un po' domesticato, e questa era la mia cornacchia, perché sì, ho avuto anche una cornacchia, si chiamava chicca, anche se in realtà non so se era un maschio o una femmina, comunque, poi l'abbiamo data ad un signore che aveva la campagna, cioè i miei genitori l'hanno data, io non volevo darla via, questa sono io che arrivo alle superiori, super secchiona, cambio totalmente, faccio crescere i capelli, qui ci ho messo i punti di luce, perché avevo sempre i capelli perfetti, insomma, dopo che sono stata, che li avevo così corti, li avevo super lucenti, comunque, a scuola andavo benissimo, ah, mi sto perdendo, quelli sono i guantoni, perché avevo cominciato a fare anche kickboxing, però poi ho dovuto abbandonarla, perché ho dovuto mettere l'apparecchio per i denti, ahimè, ed ero arrabbiatissima, sia per l'apparecchio, sia per aver dovuto abbandonare il mio sport preferito, poi, ah, questa è una scenetta, una cosa delle superiori che io ricordo veramente con tanta gioia, perché avevo partecipato, era la prima gara a cui io partecipavo, ed era una gara, un torneo di ping pong femminile, e ho vinto, sono arrivata prima, mi hanno dato anche la targhetta, qui stavo cercando di segnare la targhetta, comunque, con tanto di nome, il fatto che sono arrivata prima, quindi sono molto felice. Poi, sempre alle superiori, proprio il primo superiore, io mi sono fidanzata con un ragazzo che non mi piaceva, ma non lo so neanche io perché, o per come, o per cosa, insomma, lui era pazzo di me, e io l'odiavo anche perché non me ne importava niente dell'amore in quel periodo, tant'è che dopo una settimana, cioè, tristissima, io lo lascio via sms, cioè, con la solita cavolata, mi serve del tempo, non so neanche che stavo scrivendo, praticamente, tristezza assoluta. Qui fatemi ricordare cosa stavo disegnando. Allora, questa sono io a 18 anni, ovviamente finisce la scuola, passo all'università economia, mi prendo subito la macchina, a 18 anni ho preso subito la macchina perché non ho avuto il motorino, poi avevo l'elefantino blu, lo scarabocchio era un elefantino, infatti qui ci sono io perplessa, dico che cos'è quel disegno, e io avevo iniziato a lavorare in una concessionaria lancia, un part time, poi avevo i miei amici e diciamo ero felicitta. Dopo un po' di tempo mi sono venuti addosso con la macchina, questa sono io, io sono lì dentro, quindi proprio dal mio lato una macchina mi è venuta addosso a un botto pazzesco la macchina ha cominciato a ruotare su se stessa, io dentro spaventatissima ho sentito questa botta enorme proprio sul mio braccio, mi è scoppiato il finestrino in faccia, quindi tutti i vetri in faccia, sentivo il rumore delle ruote, per terra ovviamente la macchina girava, poi ho sbattuto dietro, insomma un macello, infatti ho dovuto portare il collarino per il collo per un po' di tempo. Comunque, arriviamo al 2007, mi innamoro per la prima volta, un po' in ritardo rispetto a tutte le mie amiche, mi innamoro per la prima volta e lui aveva 26 anni e diciamo è stata una storia un po' difficile, cioè gli siamo lasciati ripresi e lasciati ripresi mille volte, però gli voglio un bene dell'anima. Estate 2008, malefica telecamera che non metta a fuoco, estate 2008 è stata la più bella estate della mia vita. Allora io ricordo che andavo sempre al mare, ero sempre abbronzatissima, i cocktail, le serate, la discoteca, cioè io ero veramente felicissima e poi i vari amori, così quelli lì un po' passeggeri, diciamo quelli estivi, mi sentivo veramente in cima al mondo, ero veramente stra felice. Alla fine dell'estate del 2008 conosco un ragazzo, che poi è stato il mio ragazzo per due anni e mezzo, ero innamorata persa di lui e lui mi ha distrutta, nel senso che quando mi ha lasciato a lui ed ero veramente a pezzi, non uscivo più di casa, stavo male, stavo per chiudere anche il canale YouTube, perché nel frattempo avevo aperto il canale YouTube e guardate, brava Cicina che lo calpesta, brava tesoro, neanche a farla apposta, santa gatta. Comunque, come avevo detto, io stavo proprio a pezzi, passavo le mie giornate a piaggere, mi sono ripresa un pochino quando mi è arrivata una mail di Pupa che mi volevano incontrare, insomma, e quindi ero molto felice di questo, mi ha ridato un po' di fiducia e poi nel frattempo avevo trovato un nuovo lavoro, sempre part time, lavoravo in una concessionaria e in una officina, stavolta Volvo, sempre di macchine si parla. Comunque, mi riprendo anche perché insomma, nasce la Pupa nell'Academy, scrivo un libro per Rizzoli, che conteneva un lasting color con il mio nome e il colore che avevo scelto io YouTube, mi stava dando tantissima soddisfazione, avevo ritrovato un po' di amicizie e quindi ero tornata, diciamo, a sorridere. Nel 2013, quindi arriviamo già a quest'anno, diciamo che ho saltato alcuni passaggi, ad esempio i miei genitori che si lasciano, eccetera, perché sono cose che non mi piace neanche tanto ricordare, ho provato a mostrarvi, diciamo, le cose che riguardano me, cioè, come ve lo spiego? Comunque, il 2013, ecco, cambiamo discorso, all'inizio del 2013, gennaio proprio, conosco quello che è il mio attuale ragazzo, Luca, che adoro, amo da impazzire, cioè, l'adoro. Comunque, nei Lab 1, io con la mia frangetta, poi divento Nicotecnica, insomma, quest'anno mi sta dando veramente tante, tante, tante soddisfazioni. Continuiamo con il 2013, la mia storia con Luca è continua, grazie a Dio, fa molto bene, ci adoriamo, poi cosa succede? Cioè, succede nei Lab 2, rigiriamo nei Lab 2, per real time, e stavolta non mi vedrete più con la frangettina, grande news, perché c'era l'hairstyle, l'acconciatrice, se dice così, che ogni volta mi faceva acconciature diverse, io sono molto felice di questo. E niente, quindi arriviamo ad oggi, e io, che dire, non posso che ringraziarvi, perché ovviamente tante soddisfazioni vengono da YouTube, e quindi grazie a voi, e davvero vi adoro, e vi ringrazio e bacio una ad una.